Giorgio Manfredi che è stato eletto da poco, nuovo sindaco di Laigueglia e quindi all'esordio anche rispetto all'Assemblea Nazionale di Anci che si svolgerà a Genova dal 24 al 26 ottobre del prossimo autunno. Sindaco, forse tu non sai che è dal 2004 che non si svolge più in Liguria e segnatamente a Genova l'Assemblea Nazionale. Che cosa ti aspetti da questa Assemblea Nazionale visto che è anche la tua prima e che cosa vorresti chiedere, che risposte vorresti avere visto che sei adesso entrato nell'amministrazione comunale e ti sei trovato i primi problemi da risolvere come nuovo sindaco? Tanto sono una persona fortunata perché dal 2004 sono passati, non so neanche fare il conto, tantissimi anni e ci troviamo a Genova a fare questa Assemblea e cose da chiedere ce ne sarebbero tanti perché quando uno si affaccia come me, come prima esperienza in campo amministrativo, sì ci sono tante cose, mi fa sempre piacere avere un'occasione di confronto con altri sindaci che in generale hanno più esperienza di me e che ho sempre trovato sono molto disponibili ad aiutare e dare il loro supporto a chi è arrivato per prima. Per ultimo scusate, quindi sono molto contento che ci sia questa opportunità a Genova in modo da poter instaurare ancora maggiori rapporti con quelli che fanno questo bellissimo mestiere. Che invito rivolgi ai tuoi colleghi di tutta Italia? Venire a Genova, intanto in Liguria che è bellissima e poi a Genova in particolare che è il nostro capoluogo tra l'altro è una location molto bella che è quella della Fiera del Mare dove si svolge anche il salone nautico insomma, è sicuramente un evento importante da non perdere e non perdere a maggior ragione proprio perché si svolge nella nostra meravigliosa Genova. E poi fanno un salto dei guelli? Penso che questo non devo neanche dirglielo se legono che guardano tra bandiera blu, tra i Forbes che ci ha citato insomma, quello è un passaggio quasi obbligato, inutile dirlo insomma. Allora il sindaco vi aspetta dai guelli. Volentieri. Un caro saluto a tutti, ci vediamo a Genova.